ciao a tutti e bentrovati in un nuovo video dei cinghielli sul tubo sono Vessor e anche questa volta siamo su kingdom nell'esatto punto in cui avevamo lasciato i nostri costruttori che si stavano dirigendo dopo il muro est a costruire a buttare giù alberi per poter far avanzare l'esercito verso il portale che volevo attaccare che volevo distruggere vediamo se riusciamo in questa impresa ora che non ce la faremo entro la giornata tra l'altro si è anche attivato quindi prevedo che l'attacco arriverà da questa direzione i costruttori quante notte non tornano indietro mannaggia a loro quindi c'è il rischio che perderò questi due vediamo se escono da lì ma sicuramente usciranno da lì eccoli starò lì a guardare senza parole devo andare a fare parecchi costruttori andiamo allora a fare i costruttori anche perché ormai li ho consumati tutti quelli che potevano farli consumati nel senso che mi hanno portato via tutte le monete tutti i materiali scusate con cui tutti gli attrezzi allora andiamo a farli eccoli qui uno direi che ora ci sono ora il discorso è come avanzare qua giù perché non riesco mai a far avanzare il mio esercito verso quell'attacco verso quel portale il cavallo è stanco vediamo se qui si abbevera no niente da fare stanno qui l'esercito sarebbe anche abbastanza pronto ma non mi avanza non c'è verso di farlo avanzare più di qui posso provare a fare una torretta qua vediamo che succede anche perché sono quasi arrivati come vedete non avendo costruttori non so come farli avanzare vediamo se si vedono se stanno per arrivare ancora nulla ecco lì seguiamoli molto lentamente mai che facessero un piccolo scatto vediamo vediamo su dove siete nemmeno così mi state dietro oddio lenti andiamo a vedere va no arrivano fino a qui loro e poi non fanno un passo avanti non ho purtroppo un modo per sperare di farli muovere in avanti speriamo che basta questo altrimenti sono fermo e loro sono fermati lì questo vabbè me lo farebbero aumentare ma non mi interessa di fare delle fattorie qua ne ho abbastanza vediamo che cosa fanno sta arrivando la notte bene ci hanno piegato una vita arriva qua giù e alla fine ci arrivate che è notte sono senza parole ecco fatto e l'aumento pure non c'è modo anzi ahia mi fanno pure male vediamoci il compattimento ero un attimo preso che cercavo di capire come riuscire ad avanzare qui c'è lui qui ci sei te qui c'è questo vediamo eh se adesso con il giorno si portano avanti fino alla torretta o rimangono sempre lì no no si fermano qui e non c'è verso di mandarli avanti non c'è proprio verso come faccio a mandarli dei db mail qui? come posso fare? questa me l'ammaginavo che l'ammazzavano ma niente da fare via torniamo a rifare i costruttori ah no ecco che arrivano arrivano per i fatti loro e dove vorrebbero andare? oltre a caricare questo potrebbero riparare il muro ma poi non mi vanno a buttare giù gli alberi di là catapulta caricata muro e riparazione e poi dopo se ne vanno e questo è il problema che non vengono qua giù io ho questi alberi marchiati e nessuno che mi li viene a tagliare è un po' un rischio mi sono preso un rischio di andare in questa direzione col cavallo che si sta stancando vediamo se riesco a passare anche quello dai cavallo a tutti ci vuole ok via esploriamo andiamo in qua vediamo che c'è cosa c'è qua giù c'è il ponte lui nel ponte non ci va e finisce così io non ho mai capito arrivo sempre a questo punto nelle mie partite non so voi ditemi voi nella vostra esperienza se state giocando a kingdom se siete arrivati oltre a me io sono arrivato al giorno 30 32 mi pare e mi fermo sempre così non riesco a distruggere questi cosi questi maledetti portali perché non trovo il comando per fargli dire all'esercito vai lì e buttamelo giù vedete mi li fa mettere ovunque i marchi ma poi non vengono a tagliare niente i costruttori eh eh mano mia hanno ammazzato con le che esagerati e qua finisce tutta la mia partita in questo caso se non scopro come si va avanti per ora interrompo qua la serie vediamo se sapete dirmi voi un metodo lo scopro io come cavolo si fa a dire ai ai cavalieri andate lì e distruggete quel cavolo di bibi portale così che io possa avanzare vediamoci quest'ultimo combattimento che mi sembra anche partito abbastanza velocemente signori mentre fioccano le frecce io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video nel canale vediamo se sarà sempre un prossimo episodio di kingdom se ho capito come riesco a buttare giù quel portale o un altro gioco alla prossima ciao a tutti ciao a tutti